La giornata della memoria non è dedicata soltanto agli ebrei deportati e rinchiusi nei campi di concentramento, ma anche a tutto il popolo rome sinti e testimoni di Geova, agli omosessuali e portatori di handicap. A Lanciano la commemorazione si è svolta nel Parco delle Memorie, dedicato al ricordo delle vittime dell'odio razziale dei nazifascisti. All'evento era presente il sindaco Filippo Paolini. Il giorno delle Memorie, il 27 gennaio 1945, la sessandesima armata sovietica con gli alleati entrarono a Auschwitz e trovarono quello che purtroppo vediamo spesso in televisione e hanno anche sentito raccontare. L'uomo in quel momento ha raggiunto l'apice dell'efferatezza. In questa targa, in questo momento, in questa giornata, che secondo me deve essere di pausa e di riflessione, la giornata della memoria viene portata all'interno delle scuole, perché ripetiamo sempre che non dovrebbe più succedere, però è evidente che purtroppo oggi c'è ancora dell'antisemitismo latente o in alcuni casi anche piuttosto palesi in alcune popolazioni, per cui queste giornate servono non solo per ricordare, per fare memoria, ma anche per evitare che un domani si possa pensare di agire come con l'efferatezza con la quale hanno agito i nazisti nei campi di concentramento. Nella cattedrale della Madonna del Ponte, invece, a destra dell'altare maggiore, è stato messo a disposizione di chi vorrà leggerlo il Calendarium, diario degli avvenimenti documentati nel campo di concentramento di Auschwitz. Nata come supporto documentale ai processi che subito dopo la fine della guerra e nei successivi anni Sessanta si tentarono contro i responsabili dei crimini nazisti, la ricerca della studiosa polacca Danuta Cech si è trasformata in un libro. Il saggio raccoglie numerosi documenti sfuggiti alla distruzione dei tedeschi prima di abbandonare il campo o trascritti dagli stessi prigionieri e fatti uscire grandessinamente dal lager. Tra le 800 pagine del libro ci sono anche le annotazioni dell'arrivo di Primo Levi il 26 febbraio 1944 di Liliana Segre il 6 febbraio 1944 quando aveva 13 anni dei 776 bambini italiani di età inferiore ai 14 anni che furono deportati ad Auschwitz Liliana fu tra i 25 sopravvissuti. E il 23 maggio 1944 Mario Spizzichino, Nedo Fiano, Liliana Millu e Pietro Terracina. Quest'ultimo, 15enne, fu deportato insieme ai genitori, alla sorella Anna, ai fratelli Cesare e Leo, allo zio Amedeo e al nonno Leone. Lui sarà l'unico a fare ritorno a casa.